Quello di cui parlerò oggi è fondamentalmente l'argomento, quello degli impianti zigomatici e cercheremo un po' di... mi si sente? Si sente, vai vai. Si sente? E l'argomento è, diciamo, di vedere che cosa in letteratura è stato scritto e cos'è cambiato soprattutto negli anni, in quanto io sono giovane ed è da poco che mi sono messo ad affrontare alcuni pazienti con l'implantologia zigomatica o comunque a proporre questa soluzione terapeutica, anche perché all'inizio anche a me sembrava una soluzione un pochino più, diciamo, una soluzione che un po' mi spaventava. Ovviamente non conoscendola sembrava una cosa molto difficile e che probabilmente il paziente avrebbe fatto fatica ad accettare. Mi sembra importante anche spiegare un po' come io mi sono avvicinato a questa chirurgia. Questo è un caso che abbiamo affrontato al Polichinico di Milano, io sono un chirurgo maxillofacciale che lavora al Polichinico di Milano e in questo caso era un fallimento di una signora di 56 anni, di 8 impianti, si vede nell'attacco e gli esiti di un rialzo bilaterale del mascellare ed è evidenziata l'importante dentulia, la grave atrofia ossea e la protesi che la paziente non riusciva più a portare e di conseguenza ogni volta che provava a parlare, ovviamente mangiare non se ne parlava, ma la protesi praticamente gli usciva dalla bocca. Non conoscendo ancora le possibilità della chirurgia implantare zigomatica, abbiamo affrontato il caso con una fibula, tutta con metodica CAD-CAM, con impianti posizionati intraoperativamente, si vedono dei dettagli, si vedono già i fori per la posizione degli impianti nella fibula, il dettaglio della fibula modellata con già gli impianti posizionati, la lastra e il risultato con la protesi. Successivamente il risultato estetico, sia di profilo che di fronte. Non è sempre andato tutto bene, questo è stato un caso, questo era un esito non oncologico, ma un esito di pseudoartrosi del mascellare, questo era un paziente con una grossa cisti radicolare del settore anteriore, il paziente era già identulo, aveva solamente dal 13 al 23, e aveva una grossa cisti che, recidivata, ha portato a pseudoartrosi tutta la premaxilla. Abbiamo deciso di trattarlo anche questo paziente con una fibula CAD-CAM, con posizionamento in chirurgia primaria degli impianti tradizionali, ma abbiamo avuto un fallimento. Cos'è successo? Oltre ad aver perso gli impianti, anche il volume osseo è diminuito. Di conseguenza, nonostante l'intervento chirurgico con un elevato costo biologico, non siamo riusciti a portare a ripristino della dentizione il paziente. Ed è qui che a questo punto ho conosciuto il dottor Grechi. Lo conoscevo già di fama, ci parlavo già, ma non gli avevo mai chiesto cosa ne pensava degli impianti zigomatici, sapendo la sua grande esperienza e come potevo risolvere questo problema. Ed è lì che, iniziando ad approcciarmi a questa chirurgia, ho iniziato a vedere realmente, e soprattutto con i miei occhi, che effettivamente non era una soluzione così drastica, ma anziché essere riservata solo come ultima chance ai pazienti, era in realtà una soluzione che effettivamente poteva essere proposta anche come prima scelta. Ovviamente, come ripeteremo in maniera infinita in questa presentazione, scegliendo il giusto paziente. Parlando di letteratura, come è iniziata l'avventura degli zigomatici? È iniziata, questa qui è una lastra che mi ha fornito il dottor Grechi, di un impianto ad ago, di cui le prime pubblicazioni sono del 1970 di Linkov, che era un ago praticamente transinusale, che poteva essere caricato in maniera immediata, e questo probabilmente è il primo impianto zigomatico posizionato e di cui vi è documentazione. Successivamente, nel 1998, l'articolo che ho trovato è del 2004, ma nel 1998 la Nobel Biocare presentò il protocollo Branimark per il posizionamento di impianti zigomatici. La particolarità di questi impianti è che però erano completamente filettati per tutta la sua lunghezza, il MUA o comunque la piattaforma implantare era un monoblocco con tutto il corpo implantare. E soprattutto, quella che si cercava era una stabilità ossea, sia a livello dello zigomo, ma anche a livello alveolare. Sono state proposte differenti tecniche, è stata proposta nel 2000 da Warner, da Stella e Warner, anche questa tecnica definita sinus slot technique, nella quale si praticava un opercolo, un po' come nel rialzo del seno mascellare a livello della parete anteriore del mascellare per andare a scollare bene la membrana perché la paura più grande dei tempi erano le sinusiti, perché l'impianto aveva un decorso transinusale per terminare con la testa dell'impianto a livello palatale. Nel 2000, un articolo di Aparisse effettivamente mostra questo lato negativo della tecnica gravitativa con impianti zigomatici e che quindi, nonostante la buona riuscita dell'intervento, le protesi o comunque il paziente lamentava problemi, soprattutto nell'elocchio, perché la protesi era molto ingombrante, perché gli impianti, la testa degli impianti emergeva a livello del palato. Di conseguenza non c'era problema solo nell'occhio, ma anche nella gestione della protesi, quindi anche problemi nel mantenere l'igiene. Nel 2008 venne proposta ovviamente una tecnica che fosse il più extra mascellare possibile per evitare questo problema di avere un interessamento endosinusale e cercare di portare la fuoriuscita dell'impianto il più possibile a livello della cresta alveolare. La problematica rimaneva comunque l'utilizzo di impianti in monoblocco. Di conseguenza, come poi evidenziò a Parissio nel 2011, l'inclinazione dell'impianto e il coinvolgimento del seno macellare dipende dal grado di atrofia. Quindi avremo dal tipo 0, dove vi è un macellare ben rappresentato con una ottima cresta alveolare, dove l'interessamento dell'impianto zigomatico nei confronti del macellare praticamente per tutta la sua lunghezza fino ad arrivare ai gradi 3 e 4, dove il contatto osseo tra impianto e macellare è solamente a livello dello zigomo e a livello della cresta alveolare e della fuoriuscita dell'impianto. Tutti questi problemi fondamentalmente oggi io, che ho iniziato a praticare la chirurgia zigomatica, l'implantare zigomatica con i sistemi della Noris, noi li abbiamo riscontrati perché grazie in collaborazione con il dottor Balan, la Noris ha ideato un impianto che presenta una porzione, l'estremità, la componentistica, quindi il mua, il multiunit, è separato dal resto dell'impianto. Inoltre la Noris non propone questa tecnica solo per gli impianti zigomatici, ma anche per gli impianti perigodei, di conseguenza siamo liberi di posizionare i nostri impianti zigomatici nella maniera migliore sia protesicamente che anatomicamente guidata e poter poi compensare eventuali divergenze di asse con i multiunit che sono separati. Due caratteristiche di questo impianto sono, diciamo, la caratteristica principale è quella di avere un corpo liscio e solo la parte dell'apice è trattata con le spire ed è l'unica parte lavorante, in quanto tutto il resto si appoggia solamente alla parete del macellare. Le lunghezze sono dai 30 mm ai 60 mm con una variazione di 2,5 mm per misura, quindi 30, 32,5, 35, così via dicendo, fino ai 60 mm, e soprattutto presentano un multiunit dai 37 gradi ai 60 che consentono la riabilitazione della stagrande maggioranza dei casi, senza problemi. Peculiarità è la fresa diamantata che avrete visto probabilmente in altri webinar presentata dal dottor Grecchi che lavora per tutta la sua lunghezza rispettando la membrana del seno macellare. i kit, sono due kit, uno mini kit e un kit invece con tutte le frese e questa è una peculiarità della Norris, fornisce kit praticamente con tutte le lunghezze, diverse lunghezze di fresa e questo è fondamentale soprattutto quando andiamo a lavorare in bocca a pazienti dentati, in quanto lo spazio per lavorare soprattutto con strumenti molto lunghi è limitato, soprattutto dentati nell'inferiore, e di conseguenza è molto più agevole utilizzare frese più corte a seconda del caso. Due piccole cenni chirurgici, la prima fase è quella di andare a evidenziare la membrana del seno macellare dove c'è il passaggio tra parete del seno macellare e corpo zigomatico, si inizia a usare lungo tutta la sua lunghezza la fresa diamantata per andare a creare lo slot dove successivamente verrà posizionata la fresa lavorante e il posizionamento successivo dell'impianto. Cosa fondamentale, è un piccolo dettaglio, qui non vengono praticati slot, grossi slot, ma viene preparato solamente una piccola doccia dove poi verranno allorgiate le frese successivamente l'impianto, ma è fondamentale andare a scollare la parte di membrana del seno macellare a livello del recesso più superolaterale, perché se no c'è il rischio di che cosa? Di, con la fresa lavorante, di portare batteri o comunque di lacerare la membrana e portare a quel punto batteri e porzioni di membrana dove nel sottocute, perché il tragitto, comunque il protocollo, prevede che il corpo zigomatico venga trapassato per tutto il suo spessore fino a uscire nel, diciamo, sottoperiostee a livelli dello zigomo. L'ultima evoluzione, quindi siamo partiti da impianti ad ago e siamo arrivati alla chirurgia guidata sugli impianti zigomatici. Questa è la guida per chirurgia guidata zigomatica della Noris, che propone le guide sia per gli impianti zigomatici, ma anche per gli impianti pterigodei e di questo poi nella seconda parte della presentazione vi illustrerò un po' come funziona questo tipo di guida. Dopo tutta questa storia degli impianti zigomatici, in questa quarantena che ovviamente mi ha tenuto a casa per lungo tempo e quindi ho raccontato tante fiabe a mia figlia, mi sembra un po' di raccontare anche la fiaba degli impianti zigomatici, quindi si è partiti dal vedere una chirurgia, diciamo, che magari spaventava, fino a parlare di una chirurgia ormai che possono praticare praticamente tutti, sia chirurghi mazzillo-facciali che odontoiatri. Ma la mia domanda è un po' come nelle fiabe, cosa succede dopo? Dopo che abbiamo fatto il nostro intervento chirurgico, nelle fiabe si direbbe, cosa succede dopo il viscero felice e contenti? Oppure noi abbiamo scelto di fare la chirurgia zigomatica, un po' come nelle fiabe si sposa sempre il principe azzurro, ma se invece ce ne rendiamo o chi per esso avrebbe sposato un altro, come sarebbe andata? E quindi le mie domande sono, in letteratura, a oggi c'è qualcosa che ci conferma che il nostro lavoro sta andando in una direzione corretta, positiva e quindi ci sta iniziando a far pensare che la chirurgia zigomatica può anche soppiantare altre tecniche di ribiditazione del mascellare superiore? E quando questa chirurgia è la prima scelta? Ovviamente tutto è basato sull'evidence-based medicine e quindi cercando un po' in letteratura è importante andare a vedere cosa riguardo l'infantologia zigomatica è presente a livello dell'apice della nostra piramide della ricerca scientifica perché tutti gli studi di corte, i case control, i case series e i case report fanno parte della base. La base ovviamente che porta un'esperienza dei chirurghi, porta l'esperienza di differenti tecniche, ma poi bisogna iniziare a fare degli studi sperimentali, bisogna andare a iniziare a stressare, si dovrebbe dire, la tecnica chirurgica, quindi iniziare a metterla a confronto. Perché? Perché poi bisogna terminare con delle linee guida, quindi poter andare a dire quando è corretto approcciare con una determinata tecnica chirurgica e quando con un'altra. Riguardo l'infantologia zigomatica vediamo che non ci sono migliaia di articoli. Diciamo che la maggior parte degli articoli hanno iniziato ad uscire dopo il 2010, probabilmente dopo quella bella descrizione di Aparissio, dello Zaga, in cui appunto si andava a definire varie classi anatomiche e iniziare a spiegare che l'inclinazione, o comunque l'approccio alla riabilitazione dei compianti zigomatici non poteva essere predefinita in tutti i pazienti, ma doveva seguire determinate inclinazioni, comunque determinate, diciamo, veniva ad adottare determinati espedienti a seconda del grado di atrofia. Ovviamente ci si aspetta che con questa quarantena nel 2020 ci sarà un enorme espload di articoli, visto che tutti costretti a casa, anche i chirurgi più bravi che non scrivono molto, probabilmente inizieranno a scrivere in questo periodo non potendo operare. Facendo riferimento, tornando a valutare la letteratura, andando a prendere in considerazione una review del 2013 della Cochrane, Cochrane penso che tutti la conoscono e si occupa di fare delle prove di efficacia per andare ad aiutare i clinici nel prendere le decisioni, sono andati a vedere se effettivamente, stiamo parlando del 2013, gli impianti zigomatici potessero offrire una soluzione più sicura, economica, e con un'alta efficacia rispetto ad altre ricostruzioni osse del mascellare superiore per poi andare a posizionare impianti tradizionali. Nella pratica non sono state rilevate evidenze per, diciamo, determinare che effettivamente l'infantologia zigomatica, perché ne erano presenti, studi randomizzati. e quindi non c'era un'evidenza scientifica che questo tipo di tecnica fosse migliore rispetto ad altre tecniche molto più utilizzate ai tempi. E perché? Perché fondamentalmente non c'erano criteri ben definiti che potessero aiutare i clinici a prendere le loro decisioni. Nel 2016 un'altra review, una review sistematica, andò a valutare ancora tutti gli studi presenti in letteratura, quindi prendendo in considerazione i studi clinici, case control, case series, e tutti vennero selezionati in base alla presenza di statistiche fondamentalmente. Sono stati presi in considerazione tutti gli studi che avessero all'interno una valutazione, un'analisi statistica. Vennero presi in considerazione, si trovò un solo lavoro randomizzato, 16 lavori prospettici, 51 retrospettivi e ovviamente in una ricerca di questo tipo avere così pochi studi randomizzati quindi con criteri di inclusione decisi a posteriori e non a priori può introdurre un grosso bias nella nostra valutazione. Però non si può negare che cosa? Che i risultati di questa analisi confermarono che cosa? Che il survival rate implantare nell'implantologia zigomatica era molto elevato. In questi tre riquadi vedete il survival rate cumulativo a seconda del tempo, quindi mesi di follow up degli impianti zigomatici, numero di follow up di impianti valutati in quel preciso periodo, quindi si passa anche qua e la mancanza di follow up lunghi diminuisce l'efficacia di questi studi perché vediamo che avevamo 3.000 impianti al 0,6 mesi e 17 impianti a 12 anni. Però si è visto che cosa? Che si è mantenuto un survival rate elevato, si è passato dal 98% al 95% a 12 anni. Le complicanze che sono state valutate in questo studio erano le sinusiti, la infezione dei sutimolli, le parestesie, ovviamente avrete visto altri webinar o comunque spiegazioni della tecnica chirurgica di impianti zigomatici e sappiamo che le zone dove poi la parestesia può esitare, una parestesia o un'anestesia sono quelle di pertinenza dell'interorbitario o della zona periorbitaria a livello dello zigomo per ovviamente lesione dei nervi che da lì escono e la presenza o meno di fistole oroantrali. Questa l'incidenza delle complicanze in tutti gli studi analizzati per poi arrivare alla conclusione che cosa? Che alla fine oltre a confermare un elevato survival rate implantare a distanza anche di 12 anni, il numero di complicanze era molto basso, il 2% di sinusiti, il 2% di infezioni di gessuti molli, 1% di parestesie e lo 0,4% di fistole oroantrali. E in conclusione il survival rate veniva confermato a 12 anni e soprattutto che la maggior parte di impianti che venivano persi, venivano persi nel recente postoperatorio e non nel tardivo postoperatorio e soprattutto che invece le sinusiti avevano invece un decorso molto più a posteriore e quindi confermava la prima domanda che mi ero fatto era che cosa succede dopo la consiglia del manufatto? Questi qua sono pazienti che magari va tutto bene all'inizio ma che vanno seguiti nel tempo. Un'altra review del 2016, anche questa, conferma che vi è un alto tasso di survival rate implantare, in questo caso il tasso di fallimento delle osse integrazione è solo del 2,4% e di sinusiti del circa del 4%, ma anche in questo caso si stimola che vengano effettuati molti più studi con dei criteri molto più precisi di valutazione. In questo review invece del 2018 vengono prese in considerazione numerosissime possibili complicanze, ma una piccola precisazione va fatta sul fatto che mentre le quattro complicanze come sinusiti, infezioni di stuti molli, quindi mucositi, pistole orantrali o parestesie sono complicanze che effettivamente si possono riscontrare comunemente il coinvolgimento orbitale, il coinvolgimento intracraniale o anche eventualmente la frattura dell'impianto sono casi che sono stati presentati, solitamente sono case report e quindi non possono essere considerati una reale complicanza che avviene con frequenza, non si può essere determinata, l'altro giorno parlavamo con il dottor Grecchi dell'inserire o meno queste cose all'interno del consenso informato. È ovvio che vanno inserite ma non è possibile definire una percentuale di probabilità che questo avvenga. Ovviamente mi verrebbe da dire quando si toglie un dente del giudizio c'è la possibilità di fratturare la mandibola, ma che questo avvenga per nostra fortuna è molto raro. Nel consenso almeno noi ce l'abbiamo, però è veramente un'evenienza molto rara, più unica che rara. Questo è un altro articolo per citare delle esperienze a me vicine, sono quella del dottor Grecchi che anche lui è stato pubblicato praticamente settimana scorsa, che su 110 pazienti trattati e 302 impianti zigomatici inseriti, a 7 anni c'è un survival rate del 98,34%, con anche in questo caso un fallimento di soli 5 impianti. Ho trovato anche, penso, gli unici due articoli, lo studio è lo stesso, i primi report a 4 mesi e successivamente a un anno, di studio randomizzato. In questo caso sono stati valutati pazienti sottoposti a impianti zigomatici a carico immediato e pazienti sottoposti a rialzo del seno mascellare con successivo posizionamento di impianti zigomatici e i dati preliminari a 4 mesi e a un anno iniziano a mostrare che cosa? Che effettivamente la failure della protesi, cosa molto importante perché la maggior parte dei lavori parla sempre della survival rate implantare, ma mai della protesi, e il survival rate implantare in questo studio si vede essere migliore negli impianti zigomatici e soprattutto che il carico funzionale in questi pazienti negli impianti zigomatici avviene in 1,3 giorni, mentre in circa 400 giorni in pazienti sottoposti a tecnica con sinus lift, il che anche per il paziente non è assolutamente una cosa da sottovalutare quando si propongono due tecniche differenti al paziente, una che ti dà un carico immediato, quindi vuol dire che negli studi o comunque in chi è molto organizzato, in mattinata il paziente fa sia l'intervento che la consegna della protesi. Dopo questa breve analisi, la domanda che mi è venuta è, ma quindi questa tecnica chirurgica che è stata proposta, poi è stata per un po' abbandonata e poi è stata di nuovo rispolverata con il miglioramento delle tecniche chirurgiche. Non veniva proposta per le complicanze, perché spaventavano, oppure per il discomfort della protesi, perché la maggior parte delle complicanze di solito viene definita come la perdita dell'impianto, quindi il failure della riabilitazione implantare. Ma nella pratica di chirurgia implantare zigomatica, quello che ci fa perdere l'impianto è solitamente una mancata osteointegrazione o la perimplantite, ma la perimplantite dell'impianto zigomatico si intende il processo di riassorbimento dell'osso, dello zigomo, che è molto ma molto raro, si è visto, mentre tutti i processi infiammatori o comunque infettivi che avvengono lungo il corpo dell'impianto sono richiedibili a mucositi, difficilmente non sono perimplantiti. Quindi quello che ci viene da dire è che probabilmente il non utilizzo di questa tecnica era dovuto al fatto che il paziente dopo l'intervento si ritrovava una protesi, diciamo fino all'inizio del 2015 praticamente, una protesi scomoda che dava fastidio, che non lo faceva parare bene e che non riusciva neanche a detergere correttamente. Di conseguenza si preferivano altre tecniche chirurgiche, anche perché il feedback da parte del paziente non era di certo ottimale. Se poi andiamo a paragonare invece la nostra tecnica di chirurgia implantale zigomatica con le altre tecniche di ricostruzione ossea del macellare superiore, si va a vedere che cosa? Che se si va a vedere il survival rate implantare in queste... Scusate, non riesco a vedere bene lo schermo. In queste altre tecniche si vede che il survival rate implantare è nella maggior parte dei casi maggiore o sovrapponibile alle altre tecniche. Qui vengono considerate l'indulibri, vengono considerati onlay, vengono considerati GBR, l'effort 1 con interposizione di osso. Vediamo che comunque, anche se è un buon survival rate, nella pratica clinica è leggermente inferiore a quello degli impianti zigomatici. In più, c'è da sottolineare una cosa, che la implantologia zigomatica non prende in considerazione solo la tecnica quad, quindi con quattro impianti zigomatici, ma c'è da considerare anche un ventaglio di possibilità di soluzioni ibride, quindi nei pazienti in cui permane l'osso, soprattutto nella premaxilla, si può sfruttare quell'osso in combinazione con impianti zigomatici, risparmando al paziente il tempo di aspettare l'osso integrazione di... dell'osso che viene messo all'interno dei seni mascellari e quindi avere soluzioni con impianti zigomatici e impianti tradizionali o eventualmente impianti tradizionali, impianti zigomatici e impianti perigodei. Questo perché è importante? Perché le tecniche che si confrontano senza ricostruzione ossea, eventualmente con impianti zigomatici, al di là degli impianti sotto periostei, che adesso si stanno sviluppando nuove tecniche, che io al momento non ho ancora avuto esperienza nell'utilizzo, sto vedendo degli ottimi risultati e ottime presentazioni di casi risolti egregiamente con questo tipo di riabilitazione, ma attualmente non ho esperienza, ma tutto l'altro ventaglio di possibilità, la maggior parte si basa sempre su quattro impianti posizionati. E chi ha insegnato a me a mettere gli impianti mi ha sempre detto che con quattro impianti va tutto bene, le protesi possono essere realizzate soprattutto inclinando, gli impianti piedistali possono dare risultati veramente ottimi come protesi fino al sesto elemento, ma se noi perdiamo uno di questi impianti, e ora qua si inizia a parlare di survival rate protesico, non è più possibile o comunque diventa un pochino più difficile da risolvere il problema con una protesi, se abbiamo solo tre impianti residui, e quindi dovremo andare incontro al riposizionamento di impianti e aspettare l'ostointegrazione di questi impianti. Con l'implantologia zigomatica, una soluzione di questo tipo, una classica on-line for, può essere implementata con due impianti zigomatici, avere a disposizione sei impianti sui quali alloggiare una protesi fissa e se dovessimo avere un problema su qualcuno di questi impianti, abbiamo comunque altri cinque impianti, se ne perdiamo uno abbiamo altri cinque impianti da utilizzare. Le indicazioni. Dopo questa esamina della letteratura, a me è venuto da evidenziare delle cose che sono, secondo me ci sono delle indicazioni assolute, assolute nel senso che alcuni casi, quelli post-oncologici, alcune malformazioni come le displasie ectodermiche, come quella che ha fatto vedere in un recente webinar il dottor Grechi e il dottor Mancini, alcuni esiti post-traumatici, né il fallimento di altre tecniche chirurgiche e nel supporto, come sempre il dottor Grechi, ha fatto vedere un intervento di avanzamento del mascellare con posizionamento di impianti tradizionali e impianti zigomatici di supporto posteriore, di stabilizzazione anche, o entro di supporto per l'approccio, ma anche di stabilizzazione del mascellare dell'alefort 1 eseguita, in questi casi altre tecniche, a mio parere, non possono, diciamo, sul classare come livello di efficacia e di restituzio, quindi dare con un carico immediato la protesi immediatamente al paziente e non possono sostituire l'infiantologia zigomatica. Per tutto il resto, quindi quando si parla invece di atrofie senza fallimenti precedenti o comunque il paziente in prima visita, lì è di fondamentale importanza l'esperienza del chirurgo e parlo anche per me numerosi casi che ai tempi avrei affrontato con un rialzo del seno mascellare, a oggi, in determinati casi, propongo l'implantologia zigomatica. In conclusione, che cosa possiamo dire? Che le riabilitazioni implantoprotesiche su impianti zigomatici hanno un elevatissimo tasso di successo che consentono, come abbiamo detto, il carico immediato praticamente in quasi tutti i casi in cui vengono utilizzati, ma è fondamentale che cosa? Come dice sempre il dottor Grecchi, è un pacchetto che viene dato il chirurgo e il protesista, perché spesso non si può partire dalla chirurgia, ma bisogna partire ovviamente dalla protesi, bisogna decidere che protesi proporre al paziente, alle volte queste qua sono protesi definite ortopediche, perché il paziente deve essere completamente riabilitato perché ha perso l'altezza, e poi può passare alla chirurgia e allora lì anche l'indicazione della chirurgia zigomatica probabilmente si sta sempre più aumentando il suo bacino di utenza. Tutta questa letteratura qua, abbiamo visto che gli studi randomizzati e le review sistematiche non danno ancora delle vere e proprie linee guida. fanno ben sperare quando aumenteranno questi dati, si potrà, a mio parere, ovviamente quasi lo si può già dire, ma probabilmente si dirà che il successo degli impianti zigomatici è maggiore rispetto alle altre tecniche chirurgiche. Oggi noi ci possiamo fidare dell'esperienza dei chirurghi, che ovviamente dice che è una chirurgia con poche complicanze, quindi sicuramente non sono le complicanze che spaventano l'utilizzo di questa tecnica chirurgica. È una soluzione rapida, non ha quasi confronti e soprattutto è ben tollerata dal paziente. Tutta questa esamina della letteratura, io faccio sempre domande e non è il perché io ho dei dubbi, a volte ho avuto delle discussioni con alcuni chirurghi perché dicono eh beh, si vede dai dati che la chirurgia zigomatica è meglio di altre. Io non ho dubbi su che questa chirurgia zigomatica sia effettivamente meglio di tante tecniche. Andiamo a pensare gli investi only, la maggior parte si riassorbono e di conseguenza anche la predicibilità di quello che stiamo facendo è molto bassa, mentre l'impergine zigomatica è molto predicibile il risultato. Ma io penso che farsi le giuste domande e stressare questo sistema è l'unica via per far sì che sempre più chirurghi e anche odontoiatri si approcciano a questa tecnica e soprattutto la propongono con molta tranquillità ai pazienti nei giusti casi. La seconda parte, speravate fosse finita, invece della presentazione è quella della chirurgia guidata. vi ho accennato alle mascherine che la Norris ha presentato. Si parte da che cos'è la chirurgia guidata. La chirurgia guidata che cos'è? È fondamentalmente, le prime sono state in ambito dentale, è il poter trasportare quello che noi prepariamo al computer all'interno della nostra sala operatoria con dei device. Possono essere delle guide di posizionamento, delle guide di taglio, eventualmente dei materiali custom made che vengono applicati al paziente, oppure in alcuni casi può essere implementata con il neuronavigatore. Neuronavigatore che ci consente di fare un planning al computer e poi tramite un utilizzo di telecamere andare a operare il paziente. Ovviamente dopo l'acquisizione di esami come TAC, sui quali noi primariamente operiamo il paziente sulla TAC e poi andiamo a operarlo in sala operatoria con l'ausilio del navigatore. Vedete qua l'utilizzo per il posizionamento delle sonde intracraniche a livello delle fratture dell'orbita per andare a fare un mirroring o comunque andare a posizionare nella posizione più corretta le ossa fratturate dell'orbita o anche in campo dentale per il posizionamento degli impianti. Ma parlando di chirurgia guidata dobbiamo sempre, ovviamente, facendoci le domande, le famose domande, come dovrebbe essere questa chirurgia guidata? Dovrebbe essere predefinita? Dovrebbe essere mini-invasiva? O comunque non presentare un coinvolgimento, comunque un costo biologico per il paziente maggiore a quello delle tecniche standard. Dovrebbe essere rapida, se possibile, accurata e ovviamente riproducibile. Ma andando... Se noi andiamo a parlare di chirurgia invece di implantare zigomatica guidata con l'introduzione, quindi con tutta l'esamina della letteratura precedente, in cosa potrebbe aiutarci una chirurgia guidata? Potrebbe aiutarci a evitare complicanze chirurgiche. Intra, quelle che ci spaventano tanto, la maggior parte dei chirurghi è spaventata ad andare a finire nell'orbita e quindi una chirurgia guidata dovrebbe aiutarci in questo. Dovrebbe evitare le complicanze legate all'emergenza degli impianti zigomatici, quindi avere impianti che, secondo TAC, escono nella posizione più corretta. tante volte, poi noi progettiamo di mettere gli impianti e a mano libera probabilmente non li abbiamo messi dove volevamo. Comunque affrontiamo delle complicanze anche anatomiche difficili. Basti pensare ad alcuni casi molto complessi dove è molto difficile andare a reperire la corretta anatomia. Sto pensando al primo caso che vi ho fatto vedere che un esito di ricostruzione con l'embo libero l'anatomia sia dei tessuti molli che dei tessuti ossi non è quella classica di un paziente dentolo. Di conseguenza una guida potrebbe aiutarci parecchio. E infine quello di realizzare protesi anche prima dell'intervento chirurgico e quindi consegnare al termine dell'intervento la protesi che va eventualmente solo leggermente stabilizzata al termine dell'intervento. Se noi andiamo su PAMMED e facciamo la ricerca di chirurgia implantare zigomatica guidata o l'accuratezza di questa chirurgia emergono solo 28 articoli 16 dei quali riguardano una guidata che non è quella che intendiamo noi. Si parla di chirurgia guidata da dei reperi anatomici si parla di chirurgia guidata come quella di Aparicio Guided Anatomy Zigomatic Approach e quindi non sono utili alla nostra ricerca bibliografica. Ci sono altri 5 articoli tutti pubblicati nel 2019 che poi ve li mostrerò ma che non danno un grosso contributo a questa nostra ricerca. Rimangono quindi solamente 7 articoli 7 articoli che parlano di che cosa? Parlano di chirurgia guidata e mostrano una mascherina a supporto mucoso che viene alloggiata all'interno del cavorale e che presenta la guida delle sole boccole d'entrata della parte diciamo d'entrata dell'impianto zigomatico ma non ne gestisce l'apice con un impianto che può raggiungere anche i 60 millimetri di lunghezza è facile pensare che ok guidare la posizione della testa è molto importante ma possiamo avere un grado di sbandieramento molto elevato e di conseguenza andare veramente a finire in posti dove non volevamo andare e quindi soprattutto il kit di chirurgia non è molto differente da quello tradizionale e anche per mia esperienza andare a mettere l'impianto o comunque gli strumenti lavoranti all'interno di boccole all'interno della bocca di un paziente per la loro lunghezza è molto difficile molto diciamo indaginoso e di conseguenza non sono neanche riportati dati di questo studio se non Karkanovic che è andato a valutare l'accuratezza di questi di questo posizionamento con questo tipo di guide e su cadavere è andato a vedere che il grado di displacement del dell'impianto poteva raggiungere anche i 20 gradi sempre prendendo in considerazione la lunghezza dell'impianto un displacement di 20 gradi quindi un errore di 20 gradi può portare l'impianto anche come abbiamo visto è stata menzionata in letteratura la perforazione quindi l'entratta in fossa cranita media dell'impianto con 20 gradi di errori effettivamente potrebbe essere possibile di conseguenza quella proposta di mascherina chirurgica a mio modesto parere ma non lo dico io lo dice la letteratura non è come proposta non è perseguibile nel 2016 uno studio propose una guida che potesse diciamo correggere questo errore quindi correggere la direzione dell'apice dell'impianto e quindi una doppia guida sempre una parte a supporto mucoso e una seconda guida che veniva posizionata per guidare l'apice anche qua se abbiamo parlato di difficoltà a lavorare in questi distretti soprattutto come avevo detto all'inizio utilizzare frese corte e frese via via più lunghe soprattutto nei pazienti con dentizione inferiore utilizzare questo tipo di guida all'interno della bocca diventa molto difficile indaginoso l'utilizzo di due guide aumenta il margine di errore perché ogni guida all'interno ha un suo margine di errore che può essere calcolato attraverso degli studi usandone due si aumenta questo grado di errore e soprattutto in letteratura riguardo questa guida non vengono menzionati i dati l'unico lavoro che mi sembra molto interessante dal quale non sono riuscito a reperire però il tipo di mascherina utilizzata è questo lavoro del dottor Rinaldi che mostra i risultati su 4 pazienti e 10 impianti zigomatici posizionati che mostra dei risultati molto interessanti perché fa vedere una deviazione angolare da un grado a 4 gradi di questi impianti e possiamo dire che questa invece sono dei risultati diciamo che potrebbe essere una proposta perseguibile gli ultimi 5 articoli che vi mostro sono quei 5 articoli che vi ho detto pubblicati nel 2019 che però parlano della navigazione a oggi e sono più che altro diciamo studi a scopo di diciamo di prova studi pilota e che arrivano a prospettare che tramite l'utilizzo del navigatore si possa avere anche un robot hanno provato già a utilizzare un robot per il posizionamento degli impianti zigomatici non danno un grosso contributo alla nostra ricerca anche perché quindi se torniamo alla nostra domanda del come dovrebbe essere questa chirurgia guidata possiamo dire che come chirurgia guidata può essere definita può essere predefinita perché l'abbiamo pianificata al computer ma da quello che c'è presente in letteratura al di fuori dell'articolo del dottor Rinaldi è difficile andare a definire questo tipo di chirurgia guidata mini-invasiva rapida accurata e soprattutto accurata e ripetibile anche qui Norris in collaborazione con i chirurghi ha dato il suo contributo ha creato questa mascherina interamente in titanio a livello 5 di livello 5 con una boccola sdoppiata quindi a supporto interamento osseo e una boccola che essendo sdoppiata con una parte a livello della cresta violare e l'altra parte a livello della parete anteriore del seno mascellare consente la guida sia dell'imbocco ma sia anche dell'apice del nostro impianto la mascherina viene fissata all'osso con viti monocorticali e serve a precludere quello che dicevamo lo sbandieramento dell'impianto gli impianti uno sbandieramento di un impianto di 4 gradi può portare a un errore di anche 2 mm e mezzo sia della lunghezza dell'impianto ma quindi 2 mm e mezzo di posizione dell'impianto dell'apice con le conseguenti complicanze ma anche della testa implantare e di conseguenza diciamo e qua stiamo parlando di solo 4 gradi l'impossibilità di caricare la protesi che avevamo progettato prima dell'intervento chirurgico noi abbiamo avuto la fortuna di poter provare quella guida abbiamo fatto uno studio su 5 pazienti tra i 18 abbiamo selezionato pazienti dai 18 agli 80 anni sottoposto in pedagogia zigomatica guidata con le tecniche chirurgiche di quad quindi 4 impianti zigomatici 4 impianti zigomatici più un impianto eventualmente in spina o 4 impianti zigomatici più 2 impianti pterigoidei e abbiamo fatto che cosa? come aveva fatto Karkanovic nel suo studio andare a sovrapporre l'STL pre-operatorio quindi il nostro progetto all'attac post-operatoria e siamo andati a calcolare che cosa? i valori di deviazione angolare di distanza lineare della piattaforma e di implantare distanza lineare dell'apice successivamente andremo a valutare il confronto tra impianti zigomatici posizionati a destra posizionati a sinistra e posizionati nel settore anteriore o nel settore posteriore e soprattutto abbiamo fatto che cosa? il confronto con i dati presenti in letteratura in implantologia tradizionale guidata questo è lo studio che abbiamo preso in considerazione di testori del 2014 in cui venivano considerate mascherine chirurgiche a supporto mucoso osseo e dento mucoso e se andate a vedere che cosi i valori che abbiamo preso in considerazione noi quelli di deviazione dell'apice deviazione dell'impianto e di deviazione angolare questa è la pianificazione di un caso nella pianificazione si può decidere la lunghezza dell'impianto decidiamo già l'abatment quindi l'inclinazione dell'abatment che vorremmo utilizzare e soprattutto durante la pianificazione in questo caso abbiamo pianificato quattro impianti zigomatici e due impianti pterygodei questo è il caso potete vedere nelle immagini con porzione di fibula posizionata e vediamo come l'arco del mascellare non è quello di una mascella tradizionale questa qua è la fibula e di conseguenza poter avere una guida in questo caso ci ha aiutato enormemente per sapere dove dovevamo andare a posizionare la nostra la nostra fixture implantare come vedete in questo impianto quello su 25 praticamente l'impianto trapassa la fibula probabilmente posizionando la mano libera non avremmo mai trapassato l'intera fibula per andare a fissare l'osso zigomatico portando poi magari a una mancanza di stabilità o proprio a un errore di posizione dell'impianto e poi che poi si risarebbe ripercosso una difficoltà nella realizzazione della protesi ovviamente durante la pianificazione possiamo andare a valutare la densità dell'osso che incontreremo questo è il paziente quattro giorni dopo l'intervento chirurgico che avete visto all'inizio della mia presentazione con il fallimento di fibula preimplantare non mi ricordo più se 5 o 7 giorni dopo abbiamo consegnato il manufatto protesico provvisorio e dopo il suo calvario per fortuna è finito come abbiamo fatto la valutazione dell'accuratezza nei casi che abbiamo operato abbiamo estrapolato l'STL dall'ATTAC post-operatoria l'abbiamo sovrapposta come abbiamo detto all'STL del planning chirurgico e questi i risultati con una scala colori della sovrapposizione per comodità di calcolo dell'asse implantare l'impianto viene paragonato a un cilindro perché è più facile calcolarne la divergenza e questi sono i dati per ogni paziente che noi possiamo sono delle coordinate nello spazio che noi possiamo estrapolare dai quali possiamo andare a valutare con i quali possiamo fare le nostre valutazioni i risultati lo stiamo per pubblicare questo lavoro quindi questi qua posso farvi vedere solo alcuni dei dati che abbiamo raccolto su 19 impianti su 20 posizionati in un caso abbiamo dovuto cambiare la posizione dell'impianto in quanto non c'era una stabilità primaria quindi abbiamo dovuto mettere la mano libera ma su 19 impianti la distanza lineare media della piattaforma è di 1,52 mm la distanza lineare media dell'apice dell'impianto da quello che avevamo pianificato è di 1,4 mm e la differenza angolare media dell'asse implantare è 1,85 gradi che paragonato allo studio sull'implantologia tradizionale ci fa vedere che cosa ci mostra che per quanto riguarda le distanze lineari sono tutte sovrapponibili quindi potremo proporre questo tipo di chirurgia in quanto come in implantologia guidata tradizionale anche qui la protesi potrà essere consegnata praticamente a fine intervento chirurgico ma quello che ci spaventava di più era l'asse di errore e grazie a cosa che le mascherine di chirurgia implantare guidata tradizionale non ha la guida della porzione più distale della fresa ci consente di avere un errore angolare molto più basso rispetto alla guidata tradizionale questo quindi cosa ci porta a dire che questo tipo di chirurgia guidata con questa mascherina può essere allora considerata sì predefinita non coinvolge nella nostra esperienza diciamo zone anatomicamente che non aggrediremmo anche con la chirurgia tradizionale quindi può essere che il termine mini invasiva sia errato ma si può dire che non è più invasiva della tecnica tradizionale è sicuramente molto rapida l'ho potuto utilizzare io che non ho l'esperienza del dottor Grecchi ma anzi la mia inesperienza nella chirurgia zigomatica tradizionale mi aiuta a essere più veloce quando guidato perché mi fido molto di più della mascherina cosa che chi ha più esperienza più fatica a fidarsi è sicuramente accurata l'abbiamo dimostrata con i dati e ovviamente è ripetibile concludendo sicuramente questo tipo di chirurgia come abbiamo detto è tra i vantaggi la velocità di esecuzione il fitting os è perfetto ovviamente per la programmazione bisogna usare un attacco on beam ad alta risoluzione più è ad alta risoluzione l'attacco più sarà fedele la guida in titanio i risultati l'abbiamo visto sono paragonabili e sovrapponibili alle guidate tradizionali e fondamentale si usa una sola guida per tutto l'intervento chirurgico nei casi complessi di fallimento di altre tecniche sicuramente la possibilità di utilizzarla questa guida può dare molti vantaggi al chirurgo come svantaggi a oggi presenta un costo elevato e come è successo a noi bisogna imparare anche la metodica ovviamente tradizionale perché fidarsi è ovviamente la cosa più corretta di questa guida ma bisogna essere sempre punti a diciamo a sopperire a eventuali errori e quindi poter procedere e concludere l'intervento anche senza la guida mi permetto di fare una riflessione a oggi se guardiamo nel futuro con quello che sta avvenendo non solo a noi in Italia ma in tutto il mondo fare previsioni è molto difficile ne stavamo parlando non so se qualcuno ci ha ascoltato con il dottor Grecchi all'inizio prima di cominciare la presentazione ma forse sia nelle cliniche che negli studi andranno fatte delle considerazioni su come sarà su come sarà organizzato il nostro lavoro dopo questo evento mi auguro possa tornare tutta la normalità quindi diventeremo degli soliti assetati di chirurgia e torneremo a fare quello che facevamo prima se questo non fosse possibile probabilmente questo tipo di soluzione riabilitativa può concedere delle soluzioni molto rapide che ovviamente se associata quindi l'implogia zigomatica anche alla guidata veramente in una giornata prendendosi il giusto tempo il paziente entra senza denti ed esce con la protesi con una durata di trattamenti ridotta il numero di prestazioni che al giorno possiamo eseguire nel nostro studio che possono a questo punto essere più diciamo ridotte e dei costi probabilmente per il paziente anche inferiori vi invito a questo corso che verrà se tutto va bene svolto a Verona il 24-25 settembre sulla chirurgia guidata zigomatica e pterigoidea è un corso molto importante anche perché ci sarà la possibilità di avere ognuno una guida ogni discente avrà la sua guida di posizionamento implantare e quindi saggerà tutti i pro e quei poco contro che ha questa mascherina della Norris grazie finito allora possiamo aprire la sessione domande e risposte se Alessandro interrompi la condivisione dello schermo vai su Q&A già ne trovi alcune se qualcuno volesse fare una domanda a voce basta che clicca sull'icona con la mano gli apriamo il microfono altrimenti può scriverla su Q&A grazie per l'ottima presentazione con la guida presentata dalla Norris mi pare più probabile la possibilità di intervento in ambito ambulatoriale qual è il suo parere? assolutamente sì nel video era la prima che provavamo ma poi il paziente era anche un paziente delicato quindi in alcuni casi ovviamente noi abbiamo la possibilità di fare l'anestite generale lo facciamo l'anestite generale ma la volontà e quello che abbiamo visto utilizzando questa mascherina è che utilizzandola a livello ambulatoriale è assolutamente il suo scopo fondamentalmente diminuisce assolutamente il rischio di complicanze quindi anche di tempo necessario all'esecuzione dell'intervento Andrea Valercia buongiorno vorrei sapere qual è la complicanza che riscontra più frequentemente in quattro dei miei casi ho osservato una sorta di edema ricorrente della regione sottorbitaria malare entro il primo anno ma di grande entità non associata ad infiammazione intraorale né sinusiti caso o esperienza comune allora io su questo allora io personalmente grazie per la domanda ho operato oggi 15 casi miei e edema della regione sottorbitaria non ne ho riscontrato per fortuna intrometto ok mi intrometto ciao Andrea solo se ti invito solo se ti invito no e no quindi nella mia esperienza no penso che quello che ho visto io per fortuna oggi di complicanze per fortuna ancora oggi se non protesiche non ne abbiamo avute nella mia modesta esperienza posso chiedere al dottor Grechi di parlare anche della sua che magari lui avendone eseguiti molti di più prego dunque va bene complimenti prima di tutto ma hai citato troppe volte sembra beh ho imparato so che sembra un favoritismo mi sento un attimino fuori va bene comunque complimenti sul serio perché certe cose le ho viste oggi o per la prima volta quindi posso solo dire che sono degli ininteressi sicuramente su questo argomento questa dell'edema malare in effetti in effetti è qualche cosa che anche io ho riscontrato in altri casi ma la mia impressione è che all'apparenza non siano coinvolti i tessuti intraorali perché teniamo teniamo d'occhio per esempio la bolla di Bichat è quello che si crea vicino alla sede dove dove c'è molto tessuto linfatico e soprattutto il fatto che quasi sempre questi pazienti sono dei pazienti con delle cicatrici da esiti di altri interventi chirurgici per cui a mio parere è una sorta di difetto di circolazione linfatica dovuta alle cicatrici da pregresso interventi magari accentuate una cosa che io ho notato per esempio dall'esposizione ai raggi solari quindi dall'aumento della temperatura della cute e da qui ne ho derivato che ci deve essere un piccolo accumulo liquido che non viene drenato perché ci sono delle cicatrici presenti anche se in bocca non vedi niente ma in qualche modo la minima infiammazione del tessuto circostante anche dovuta ai raggi del sole produce un edema che di solito se ne va in un paio di giorni magari con un minimo di antinfiammatorio e nulla di più questa è una cosa che anche io riscontrò basta poi un'altra domanda ciao Francesco Gallo ciao Francesco quali complicanze protesiche le complicanze protesiche al di là di un problema a livello proprio dell'emergenza implantare dovuto ai tessuti molli le complicanze protesiche sono quelle che se utilizziamo delle protesi con provvisorie soprattutto a livello delle protesi provvisorie e non funzionalizziamo bene queste protesi abbiamo la rottura delle protesi fondamentalmente è fondamentale funzionalizzare bene i pazienti prima di riabilitarli perché eventualmente ripristinando l'altezza verticale perché si dà molta forza su questi impianti e i rimpianti reggono ma le protesi poi no e quindi a noi spesso i denti di bacchetta che vengono messi sulle protesi provvisorie spesso si continuano a fratturare perché comunque i movimenti non sono più quelli naturali di conseguenza protesi differenti anche come protesi provvisorie sarebbe meglio utilizzare delle protesi magari in monoblocco che sono migliori e molto più performanti di quelle diciamo in resina ai denti di bacchetta basta non vedo altre domande se ci fossero altre domande abbiamo ancora qualche minuto a disposizione ah ecco ce n'è una su chat sì buonasera tutte le volte che ho fatto zigomatici una cosa tipica è la pressione e la forza che si deve fare per tenere nel settore posteriore dritte o ferme le frese per lavorare nella vostra esperienza avete mai avuto il distacco o lo spostamento della mascherina dovendo poi proseguire a mano libera allora posso dire nella nostra esperienza allora bisogna qui mi permetto di fare un piccolo una piccola digressione sulla chirurgia che noi usiamo guidata per le ricostruzioni osse con lembi liberi bisogna fidarsi del sistema se c'è un distacco della mascherina facendo forza o comunque premendo con forza vuol dire che non stiamo seguendo la direzione che ci sta consigliando la mascherina quindi bisogna avere un pochino più di pazienza alloggiare correttamente la fresa all'interno dello slot e soprattutto utilizzare ogni fresa fino al termine proprio del suo lavoro senza passare magari da una fresa all'altra allora noi tendenzialmente usiamo solo la fresa la numero uno per poi avere il torque massimo nel posizionamento dell'impianto zigomatico è vero però che la fresa è presente di differenti lunghezze e soprattutto nell'utilizzo della mascherina chirurgica abbiamo dei riduttori di calibro che ci permette di guidare l'apice che è molto lungo della fresa nella direzione corretta quindi abbiamo questo riduttore di calibro che ci mantiene l'asse della fresa ecco tutti i passaggi vanno fatti fino proprio a completare il passaggio per prima di passare al successivo se questo non viene fatto allora possiamo incorrere in questo tipo di problematiche un'altra cosa importante quando andiamo è una cosa fondamentale anzi quando viene progettato il caso non può essere progettato so che dico cose scontate ma non sono se è successo che non avvenga così non deve essere l'ingegnere a progettarlo deve essere il chirurgo probabilmente insieme all'ingegnere anche perché io non sarei capace di progettarlo e andare a vedere le zone di maggior spessore osseo anche per il posizionamento delle viti monocorticali che fissano la mascherina perché sappiamo benissimo che la parete anteriore del seno mascellare alle volte è come carta velina andare a mettere lì una vite di ancoraggio cioè di ancoraggio per fissare la mascherina ovvio non c'è bisogno di grande forza ma basta un minimo movimento e la mascherina si sposta per fortuna questo tipo di problema non l'abbiamo avuto questo no una cosa invece che possiamo consigliare è di finire le due preparazioni e poi posizionare entrambi gli impianti zigomatici perché posizionare un impianto zigomatico e poi andare a fare l'altra cosa invece quello può essere un po' può creare un po' di problemi anche perché quello si abbiamo visto che può creare soprattutto a livello dell'apice implantare può eventualmente ad elevati torque può creare anche non lo nego degli spostamenti o comunque anche delle microfatture all'interno del corpo zigomatico che poi possono creare dei problemi quindi sì questo è quello che consigliamo e giusto per concludere quando abbiamo riposizionato l'impianto zigomatico a mano libera non si è spostata la mascherina probabilmente non abbiamo trovato il torque primario un'altra domanda tecnica a mano libera usi mascherine alveolari in resina per la posizione di emergenza noi nella tecnica a mano libera tendenzialmente usiamo delle mascherine in resina con una parte palatale che viene fissata in maniera transfissa al palato e con degli attacchi vi è legata l'arcata con i denti quindi è un progetto in resina della futura protesi che noi utilizziamo solo per poi trasmettere in tecnica tradizionale la posizione perché poi solidarizziamo le torrette quindi i transferi da impronta con varia maniera a questa porzione palatale per poi trasferirlo al laboratorio per ricreare la protesi mascherine chirurgiche questa qua usiamo quindi abbiamo più o meno la posizione dei denti dove vanno abbiamo un segno di dove andranno eventualmente dove suoranno i denti poi della protesi ma poi durante il posizionamento degli impianti la mascherina non è presente il dottor Michele Romano mi salutava allora la domanda Michele Romano domanda un po' maggi gestione anestesia locale pura sedazione ne abbiamo parlato proprio prima di iniziare allora l'anestesia sai che a noi piacciono i pazienti che dormono allora casi settoriali anche e solo in anestesia locale pura in anche ambulatorio chirurgico in studio per tutto il resto dei casi la stragrande maggioranza sono affrontabili in anestesia locale con una sedazione ovvio fondamentale come il feeling con anestesista con protesista aiuto assistente tutto è fondamentale il feeling con l'anestesista in quanto abbiamo avuto anche insieme al dottor Grechi delle esperienze dove se comunque è difficile andare a finire nell'orbita se il paziente in sedazione si dissocia e inizia ad agitarsi allora lì inizia a diventare un po' indaginoso e quindi per noi la soluzione ideale è l'anestesia locale con un po' di sedazione per i casi settoriali invece diciamo che con l'esperienza si possono posizionare impianti zigomatici un impianto zigomatico lo si fa in anestesia locale pura come nella scelta della tecnica chirurgica è fondamentale ovviamente il paziente se è un paziente con altre comorbidità o con qualsivoglia problema anche di ansia o di difficoltà nella gestione allora a quel punto probabilmente la sala operatoria è la situazione migliore in anestesia generale però casi selezionati si portano in anestesia generale mi permetto di fare l'esperienza mia personale due impianti posteriori quindi eventualmente una soluzione ibrida con quattro impianti tradizionali nel settore anteriore e due impianti zigomatici posteriori quindi a livello di 25 e 15 o 26 e 16 tranquillamente io faccio il mio esempio perché sicuramente non ho messo tantissimi impianti ma lo si può fare tranquillamente in anestesia locale più sull'azione se già fossero quattro impianti zigomatici mi è capitato ma diventa un pochino più indaginoso quindi sicuramente bisogna fare un'attenta valutazione dell'attacca e soprattutto della dimensione del corpo zigomatico in quanto come fatto vedere nelle presentazioni dei webinar precedenti finché si mette un impianto nel corpo zigomatico è facile andare a centrale due impianti nello stesso corpo zigomatico di eventualmente donne magroline diventa un pochino più diciamo divertente un'altra domanda preferisce il carico immediato sempre nel caso di un buon torque si cerca comunque la fuoriuscita minima della punta dell'impianto che il clinico sente con le dita allora il carico immediato anche in letteratura è consigliato e si è visto che abbassa la failure implantare il carico immediato e quindi poi chiedo anche l'aiuto dal pubblico che si è guarda che ti vediamo in telecamera che sei sul divano e sei comodo andrei non aprirgli il microfono e quindi tendenzialmente tutti carichi immediato a meno che non ci siano problemi sempre carico immediato la fuoriuscita della punta dell'impianto dal profilo osseo in verità può essere quasi considerato un errorino perché la fuoriuscita della punta è quella della fresa quindi noi dobbiamo sentire sotto sotto la nostra punta delle dita la fresa che esce e poi successivamente la sonda che va a uscire e poi si va ad aggrappare al profilo osseo per per testare quale sarà la nostra lunghezza se sentiamo con le dita la punta dell'impianto mi permetto di dire che forse è troppo lungo l'impianto quindi andrebbe accorciato l'impianto oppure leggermente svitato perché allora lì possono insorgere dei decubiti e poi eventualmente se l'impianto è sporco o eventualmente la paziente non so magari sentendoselo continua a toccarsi così allora lì può iniziare a diventare una problematica abbastanza grave che poi deve intercorrere in un intervento chirurgico di rimozione della testa dell'impianto se seguirete le presentazioni oppure l'ha già fatto vedere nelle prossime presentazioni proprio dover rimuovere l'apice dell'impianto perché dall'altra parte se no vorrebbe dire rifare completamente la protesi e poi magari l'impossibilità di riposizionare un impianto insicomatico posso chiedere a Francesco se vuole dire qualcosa dottor grecchi ti richiamo sì cosa devo aggiungere no sull'apice dell'impianto perché la domanda è l'apice dell'impianto non deve uscire dallo zigomo ecco allora anche tu sei d'accordo l'apice dell'impianto no la fresa sì la si deve sentire la fresa sì ma l'apice dell'impianto non deve assolutamente uscire dallo zigomo perché crea dei problemi e tra le altre cose sviluppa sviluppa anche se non si creano dei veri e propri dei veri e propri piccoli flemmoni cosa che è si è vista ed è riferita anche in letteratura ma ne ho avuto un paio di casi anche maltrattati che dopo un ematoma comunque può succedere ma si percepisce si percepisce e il paziente di solito o tutto si va a toccare poi durante la notte quando quando decubita su questa questo piccolo emergenza l'assente un po' di periostite ed è molto fastidiosa tanto che tanto che esiste in letteratura è proprio descritta l'apicitomia dell'impianto sia per via transorale che per via transcutanea è un errore è un errore è un errore che succedeva peraltro piuttosto di frequente quando l'impianto aveva una filettatura molto più fine e non era conico con l'impianto conico basta rimanere con una dimensione della fresa un po' inferiore e l'impianto non esce non esce dallo zigomo se non ci sono altre domande direi che siamo in chiusura non vedo non vedo nessun'altra domanda non vedi nessuno se ne sono andati tutti spero soddisfatti dai sono riuscito a tenere qua 40 no no prima erano molti adesso oramai li hanno abbandonati diventiamo noiosi va bene basta allora intanto ringraziamo dottor Bolsoni per il suo intervento dottor Grecchi da dietro le quinte grazie a voi dell'invito diamo appuntamento a giovedì prossimo giovedì 30 per il webinar sugli impianti per i coidei con il dottor Stefanelli grazie a tutti e buona serata arrivederci grazie arrivederci buona serata a tutti quanti